La città si è svegliata e imbiancata. Neve all'Aquila in tutto il suo comprensorio nel primo giorno di un'andata di maltempo che non lascerà l'Abruzzo almeno fino alla settimana prossima. La neve è iniziata a cadere nella notte e ha imbiancato le strade cittadine e le autostrade a 24 e a 25, ma il centro operativo della polizia stradale dell'Aquila comunica che non ci sono disagi. COC, centro operativo comunale aperto all'Aquila, dove il sindaco Pierluigi Biondi ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado con un'ordinanza diramata questa mattina alle 7.30, provvedimento adottato dopo le indicazioni fornite dal settore protezione civile e da quello della viabilità e della polizia municipale. Resta invece aperta l'università. Le attività didattiche e amministrative si svolgeranno regolarmente in tutte le sue sedi che sono accessibili, fermo restando che le condizioni meteo vengono costantemente monitorate e valutate, come spiega il settore protezione civile d'Ateneo. L'avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale nella serata di ieri, infatti, prevede un momentaneo rialzo della quota neve in mattinata, ma l'intensificarsi delle precipitazioni nevose da questa sera porterà nevicate diffuse fino a quote di 500-600 metri, quindi anche in città fino a domani mattina. Quanto alla viabilità, resta sotto controllo e regolare all'Aquila, grazie anche al lavoro degli operai del comune e ai mezzi spazzaneve in azione sin da questa mattina presto. Poca neve e strade completamente pulite per ora nei comuni dell'Alto Piano di Campo Imperatore. Il sindaco di Castel del Monte, Luciano Mucciante, conferma che l'asilo è aperto in paese, così come sono aperte le scuole elementari e media nel vicino comune di San Pio delle Camere. Neve abbondante è prevista più che altro nei prossimi giorni, per questo motivo a Castel del Monte e nella maggior parte degli altri comuni ai piedi del Gran Sasso da diversi giorni sono stati attivati i centri operativi comunali. Scuole aperte anche nell'altro versante Aquilano, attorno in parte è scoppito Lucoli. Attive tutte le stazioni sciistiche, da Campo Felice a Ovindoli, da Roccaraso a Campo Imperatore.